E ora spazio ad uno studio che rileva che il Sud Italia è più informato su diversità, equità e inclusione. Alba Di Palo. Gli abitanti di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sono i più informati in Italia sui temi della diversità, equità e inclusione rispetto alla media nazionale. E' quanto emerge da uno studio condotto da Omnicom PR Group Italia, da cui si rileva che il 55% dei meridionali definisce la propria conoscenza dell'argomento come molto buona, contro il 50% della media italiana. Il 60% del Sud vive la diversità come opportunità per creare valore. E sulla definizione di vari tipi di diversità, il 60% indica quella di identità e genere sessuale, seguita dall'orientamento sessuale, dal colore della pelle, da culture, tradizioni e usanze etniche. La percezione dello stato di equità nelle cinque regioni del Mezzogiorno è meno rosea. Solo il 40% afferma che in Italia sono garantite uguali opportunità, a prescindere dalle condizioni di appartenenza. Ma il 57% degli abitanti del Sud spera che nei prossimi cinque anni saranno garantite a tutti opportunità uguali. Lo studio, spiega Massimo Moriconi, general manager e amministratore delegato di Omnicom PR Group Italia, ci restituisce un paese che ancora non crede pienamente nella possibilità di costruire un mondo più eco, inclusivo e rispettoso della diversità. Mentre fattori come pandemia, guerra, crisi energetica e ambientale rimangono determinanti nella definizione del contesto di pensiero sociale, prosegue, le aziende diventano luoghi protetti dove condividere programmi e comportamenti virtuosi.